Il 26 dicembre compie gli anni d'ora della Federazione Ufologica Italiana, FUI. Auguri anche dall'Alister e dal popolo del web che ti segue e da chi ti vuole bene. Buon compleanno d'ora! Persona stimata, apprezzata per la sua onestà intellettuale, dalla comunità Alister e da tutto il popolo del web che ti segue. Un particolare augurio da chi ti vuole bene e dalle persone che ti stimano. Buon compleanno! Se volete mandare gli auguri a mettete un mi piace e condividete il link. Più mi piace, più auguri arriveranno all'interessata. Grazie a tutti!